Avete un contratto, lei risponde io, allora sai chi? Sei proprio la peggiore delle cose, le arlese, sono io. Questa è una cosa fastidiosa, la fatta nostra, non vorremmo mai fare. Io ho fatto il tavolo sul comune, erano 25 persone, la fatta una stessa. Qui non è che stiamo parlando che ho mandato qualcuno a fare la carta, io poi non lo faccio neanche io, perché siccome io sono una pubblicitaria, ho l'ingegnere per fare tutte le cose, ho l'avvocato che si occupa. Siamo stati qui tante ore per essere stato, che le cose alla fine sono a posto. Io le cose non mi devo rendere conti, io ce l'ho, sono loro che le devono compi. Però loro finché non hanno un rapporto, tutte le cose. Loro ci vogliono creare problemi.